Cari amici, un breve video sull'espulsione di Palamara dal sindacato dei magistrati e soprattutto sulle sue dichiarazioni che sono interessantissime. Sta in qualche modo minacciando ed è a sua volta minacciato. Ha detto chiaramente che non era da solo, che faceva parte di un sistema che non può essere il solo capro espiatorio. Ha detto cose molto interessanti e sembra abbia preparato il terreno ad altre dichiarazioni che forse ci saranno, forse non ci saranno. È chiaro che Palamara rischia la vita, rischia la vita perché se è intenzionato a vuotare il sacco con tutte le cose che sa, crolla tutto e quindi lui sta rischiando decisamente la vita. Speriamo che le autorità, quella parte ancora sana del paese, se c'è, se c'è, se c'è, perché a questo punto viene davvero da domandarsi se c'è, prenda le dovute misure, le dovute precauzioni, gli venga assegnata una scorta, sia sorvegliato e protetto. perché Palamara, al di là di tutto quello che può avere fatto, rischia la vita e ha diritto ad una protezione. Grazie e alla prossima.